Lo studio di radiologia Bracoa Il studio di radiologia Bracoa Ogni giorno è una storia diversa Da oggi hai uno spazio per viverle tutte Nuova Reloce Nick Multispace for Multistories She likes glamour Runway Style Fame She likes gassi She likes Boys Party Dive Fame She likes Fame La prima volta Ogni volta è la prima volta La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre La prima volta che vinci La prima volta che piangi La prima volta che ami La prima volta che doni Dona il sangue La prima volta e per sempre Bene eccoci tornati in studio Io direi se avete un'ultima pillola Da dedicare a questo Poi basta perché oggettivamente Non se ne può più E' anche Doloroso Continuare a parlarne E io ricordo solamente una cosa Se me lo consenti Che Gli 80 km che mi sono fatto domenica sera Per andare a Perugia Da un'altra parte Mi sono sempre di 800 Veramente un viaggio di una sofferenza indicibile Posso immaginare Tu che dici? Io lo dicevo Prima Dicevamo prima A Telegramma Ho rischiato di sentirmi male Perché A vederli di nuovo risultare Con tutto il rispetto Per i nostri cugini Però da fastidio Poi non so se Poi ne parliamo dopo Ma allora ne parlo adesso Visto che mi contesse una pillola Quel nostro Quell'amico nostro Che giocava in porta per il Perugia Che ha giocato per tre anni con la Ternana Veniva da Lumezzane Me l'aveva già descritto Ambrosi Sì anche a me E come era A Cipicchia Però insomma Finghè non lo vedava Questo signore ha giocato per tre anni con la Ternana E' andato a giocare a Perugia In prestito Sembra che non potesse fare altrimenti Non voglio aggiungere altro Perché su questo io non lo so Se voleva giocare Sembra che sia stato così Però insomma Poteva anche esultare Perché giustamente Ha vinto un derby Ha vinto a Terni Ho visto che quando ha segnato Ha esultato Però insomma Mi è parso assolutamente fuori luogo E io se fossi stato anche un tifoso Per un giro Non l'avrei apprezzato E mettersi a saltare sotto la gru A fine partire E' stata una coscia E' stata una coscia Veramente brutta No Non è stata brutta Mi dispiace E' stata solamente scarsamente professionale Con questo dico Alberto Brignoli E' stato il miglior in campo Comunque Fuori di poi La parola di discussione Perché la prestazione E' stata eccezionale Ma comunque Sotto il punto di vista Della professionalità Ha lasciato Molto A desiderare No Su Brignoli Non me ne importa niente Si commenta Brignoli Ma l'ha chiamato Lo speaker Si commenta da solo Ma è un babbroccino Si commenta da solo Ambrosio ce l'aveva detto Ambrosio aveva ragione Ecco A proposito di Ambrosio E altri giocatori Noi nel corso degli anni Abbiamo avuto Tanti giocatori di personalità Che sarebbero stati fondamentali Per questo derby Penso a Busellato Penso a González Penso a Pisacane Penso a Pisacane Penso al portiere Dello scorso anno Mazzoni Mazzoni Allora Tutto questo Guarda anche Coppola Il migliore Il migliore Tutti questi giocatori Di personalità Noi quest'anno Non ce l'abbiamo E sono fondamentali In una squadra Qual è il giocatore Trascinatore In questo momento Forse le desmo Forse le desmo Avesse giocato La squadra Della prima divisione La stessa squadra Con tanto attaccato Ferraro De Giose Pisacane In difesa Di andare Avrebbe ammazzato Il Perugia Semplicemente Perché ci mettevano I famosi attributi Ai quali si fanno Il riferimento Vorrei aprire Ma non possiamo pensare Ancora una volta Di più Scusate E concludo Che quella vittoria Sia stata Casuale 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 E non voluta Non è che si può Campare i ricordi Un'altra postilla Però la vorrei aprire Anch'io Ma io ce l'ho d'accordo Però non c'è Posso? Dica Per quanto riguarda I tifosi Perché per l'ennesima volta Anche i tifosi Comunque si sono dimostrati Grandissimi Secondo me Liberati Hanno vinto loro Per l'ennesima volta Infatti è uno spreco Averci questi tifosi Eh lo so Però secondo me Mi ha dato un plauso Perché comunque Si sono riversati In tanti A Libero Liberati E le coreografie Erano eccezionate Tanti 7000 Beh per come Per come Sta andando il campionato E per come Insomma L'aria che tirava Insomma Lì a Terni Secondo me È stato Poi temendo Come è accaduto Che magari dovevamo Vederli Soltà un'altra volta No ma più che altro Anche la coreografia Siete la S Bellissima Caragrafia A me ha fatto venire A caporare la pelle Insomma Quindi Io vorrei fare sempre Un plauso a loro Perché comunque Capito caro presidente Che ti fanno i tifosi Della Ternana Commoventi Guarda Sarebbe da ringraziare Anche i tanti tifosi Che ho letto sul forum Rossoverdi.com Che vivono fuori Terni Gente che ha preso il traghetto Che sono venuti in treno Da Lino Abbiamo intervista da Londra Due ragazzi Che sono venuti Hanno preso l'aereo E sono andati in curva nord A vedere il derby Veramente Un ringraziamento A questi ragazzi Dalla regia Ci ricordano Che poi dopo C'è stato un confronto Abbastanza acceso Ma neanche Ha perso l'occasione A questa zitta Iachite ha detto Pensare a fare i tifosi Poi pensare a fare i giocatori C'è stato un confronto Acceso Comunque tra Alcuni esponenti Delle due curve All'interno del Garden Con la squadra E lo staff tecnico Adesso Che cosa si Sono detti Ma che serve Questo Non ne sono a conoscenza Però è durato circa Un'oretta Questo confronto Promettiamo di fare I bravi bambini Di andare a scuola Con l'azionale pulito Di impegnarci Di non sporcarci le mani Con l'inchiostro E di rispondere bene Alla professione Alla maestra Ecco Ma che vedevano di Secondo me Liberati Sarà abbastanza deserto Ecco Proviamo a introdurre Speriamo di nuovo Quale scenario Ci dobbiamo attendere Parto io Se non vinci a Bari Mille spettatori con la lina Sono anche tanti Io invece vorrei Di un'altra cosa Secondo me Il momento di disertare Lo stadio Era l'anno scorso Perché non contava niente Erano cambiati Adesso invece Dobbiamo salvare la categoria Nonostante ce l'abbiamo Con la società 12.000 O come ieri O come domenica In Doninotto Ma che gli facciamo Facciamo andami in campo noi Anche solo tre punti Contassero È importante Perché la categoria Massimo Poi penso siamo tutti d'accordo Nonostante tutto quello Che possiamo dire La società Va salvata Perché è un conto Fare la Serie B Con questa società Un conto fare la Lega Pro Con questa società Perché faremo la Lega Pro Con questa società Chiariamo questo aspetto Faremo la Lega Pro Con questa società Faremo Abbiamo già fatto Faremo Abbiamo già fatto Io leggo su Tanti profili Facebook Forumistici Eccetera Eccetera Non è che se retrocediamo Cambia No Restano Rimane uguali Ma chi ne dice Sto sciocchezzo Restano Restano Magari mollano di più Magari investono ancora Non se ne vanno Non se ne vanno Per cui Se riuscissimo Salvare la categoria Sarebbe Se abbiamo La stanza Di cambiare società Ce l'abbiamo In 0 e B Tra l'altro È più facile Sicuramente Sempre quel pacchetto Dei milioni di quote Sequestrate Che ben sappiamo Rimango sempre Dell'opinione Che Perlomeno io Non mi sento Di fare appelli A nessuno Ognuno faccia A quello che crede Perché Oggettivamente È una situazione Surreale Ma non sono Più di 15 anni Che siamo sequestrati Non le quote Della Ternana Noi Noi siamo sequestrati Da una proprietà Che dimostra Palesemente Di fregarsene Della squadra E di quello che pensano Di fosse Perché se no Non si comporterebbe Però non retrocedere Solo la società Retrocedere anche La Ternana E anche la città Noi siamo già Retrocessi Da troppo tempo Da troppo tempo Basta con queste frasi fatte Che la città E il retrocesso Dà un'eternità Devo dire Ma magari la soddisfazione Di giocare di nuovo Con il derby L'anno prossimo Io per esempio Non la vorrei Ma giochiamone un altro Perché Per perdere un'altra volta Continuiamo A inanellare Grandi figure Che scenario Ti aspetti Gianni Guarda Quello che mi aspetto Non lo so Perché la situazione È ai confini Diciamo Della realtà C'avrebbe un'arma Secreta Simone Che sarebbe Quella di rimettere Sulla panchina Della Ternana Panucci Ma non lo fanno mai No lo sai perché Significherebbe Ammettere un errore Ma aspetta Non si amare No Allora tu immagina Quanti Se fosse una persona Non dice bene Manco fatto Sotto tortura Può essere Facciamo tre premesse Panucci non verrebbe Simone non lo richiama E questo contesto È irreale Però Ci ho detto Immaginiamo la situazione Del tipo Allora Il rientro di Panucci Ricompatterebbe subito L'ambiente Questo è vero Perché Perché In subordine Significherebbe Come hai detto tu Che Simone Longarini Riconosce di aver fatto Un errore Sarebbe la prima volta In quattordici anni Che la società Abbiamo commesso Un errore Vi ridiamo L'allenatore Che avevamo scelto È il l'unico Che aveva dimostrato Di aver capito tutto Secondo Panucci È uno Che ha dimostrato Di infilare Dei filotti Nella sua carriera D'allenatore Non indifferenti Io ricordo Con il Livorno Ha fatto 4-5 partite Vittorie Di seguito Anche Perni Ecco Si metterebbe Nelle condizioni Di una società Tra l'altro Di dire Ok Ho fatto L'estremo tentativo Cioè Non ho lasciato Diciamo Che la situazione Decadesse Fino Alla retrocessione E probabilmente Il gruppo Storico Di luglio Scelto Da Panucci Ricompatterebbe Tutto il resto Della rosa Quindi È un'ipotesi Che anch'io Scarto Al 99,99% Periodico Tu non è che la scarti Però la ritieni Impossibile La tengo impossibile È l'unica ipotesi Che riporterebbe Già Dallo stadio Totalmente Disaccordo Io invece Totalmente Disaccordo Perché secondo me Panucci Non è il salvatore Della patria Uno No certo Non è Ma tu l'hai messa Come No Tu ricompatterebbe L'ambiente No Però dopo Al Livorno Ha fatto un filotto Cioè Vanno esonerato Palucci Al Livorno Non è che è stato Anche il Livorno Non è che la salvato Allora Ma Panucci Perché anche nel Livorno Ci è preso Passiamo al quarto allenatore Posso Assolutamente Qui viene Gaudieri Fino alla fine Ormai Posso surrogare Vorrei finire un attimo Scusate Perché se no Non ci piace Ci sei parlato De Panucci Zitto No 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 Se fosse ritornato Panucci Secondo me È il periodo migliore Dopo Carbone Dopo Ascoli Però neanche Pisa Dopo Ascoli Però anche da un punto di vista Ricompattare il gruppo Cioè Lui comunque ne aveva scelti Quelli che ci stanno Adesso Sono comunque pochi Cioè Ha fatto Che chiedeva rinforzi Panucci Cioè quindi Quelli che ci stavano A luglio Adesso Sì ci stanno Ma sono di meno Cioè comunque Non c'ha Non c'ha il gruppo Non c'aveva il gruppo In pugno Panucci A luglio Da quando è andato via Insomma agosto Scusate Ce l'hanno in pugno Non ce l'ha avuto mai nessuno Quelli che aveva presso lui Sì però all'epoca Adesso magari questi sono nuovi Alessandro Io avevo detto Prima di Caudieri Che per me L'allenatore giusto Per questa squadra Era uno che si chiama Delio Rossi Solo che ci vogliono i soldi Per prendere Delio Rossi I soldi Giusto Come ha detto lui Ci vogliono gli sghei Se tu Allora abbiamo fatto Un mercato di riparazione Scusa Un mercato di riparazione Di Akite Gioca una partita Si fa male Rossi gioca una partita Si fa male Monaghello mezza partita Si fa male Acqua fresca Anche a un certo punto Si fa male Acqua fresca Non lo so Ma per questo Che ti dimostra Che hai fatto Un mercato di riparazione Ridicolo Ridicolo Abbiamo detto Ma allora E qui ti chiedo Permesso a te Enrico Di farti una domanda Che magari possiamo Anche condividere Con gli altri Perché Ma allora Il segreto Per auspicare E sperare Soprattutto Nella salvezza Della Ternana Sarebbe Quello di Cacciare Gaudieri Adesso forse Allora Provo a risponderti Gaudieri Sta qui Da tre partite Dai su Ne ha vinta una Vabbè La vinta è così Abbastanza fortunosamente Ne ha perso una Malamente In quel di La Spezia E ha perso Questo derby Che oggettivamente Vale per tre Quindi ha perso Quattro partite Su due Lo sappiamo Come funziona Oggettivamente Il discorso Il discorso È molto più Semplice O complesso A seconda del punto di vista Da cui lo vuoi guardare Secondo me Gaudieri L'abbiamo detto È uno che La sua squadra La fa giocare A calcio Normalmente Fa questo modulo Che è il 4-3-3 Andava presso A giugno Allora O lo prendi Ma bastava prenderlo Anche dopo La compita interna Con l'ascoli Perché si sarebbe avuta Tutta la pausa Invernale E soprattutto Avrebbe scelto I giocatori funzionali Al proprio modulo Invece è stato preso Dopo Pisa A mercato Finito Praticamente Fatto C'erano dieci giorni Però C'erano dieci giorni Ma erano già finiti I giocatori Perché era già stato preso Ledesma Di Achite Pettinari E compagnia cantante Non sono giocatori funzionali Al suo modulo Perché Di Achite È un giocatore Da difesa a tre Pettinari Non è un esterno Ledesma Potrebbe anche Agli sgoccioli Almeno fisicamente O perlomeno Non in forma Mettiamola così Oficimisticamente Per cui O Gaudieri Come hai detto Giustamente Tu ripeto Nell'intervista Che ho visto online Rinuncia A questo Dogma Del 4-3-3 Di giocare E si adatta Al materiale Che ha a disposizione Perché Gaudieri Secondo me Non è un cattivo allenatore No Se non ha Il tempo Di lavorare Sulla squadra E mandare a memoria Determinati meccanismi E non ha I giocatori funzionali Soprattutto Per farlo Bisogna che si inventa Qualche altra cosa Tutti gli allenatori Tutti gli allenatori Passano da Coperciano Prendono un patentino E studiano Per prenderlo Per cui Non è che conoscono Un modulo Perché gli piace quello Se sono laureati In quello No Sono laureati Tra virgolette Nel ruolo di allenatore Il ruolo di allenatore Prevede che conoscono Sì però Anche evitare Un credo tattico Alla squadra Per assimilarlo Ma non hai Non stiamo a luglio Non stiamo a luglio In ritiro Stiamo Un bel pezzo avanti Perché già La quinta La prossima Del giorno di ritorno Siamo penultimi A distanze siderali Dalla salvezza Bisogna che uno fa Di necessità virtù Si adatta 4-4-2 Normale Arrombo 4-5-1 Quello che ti Deve trovare Una soluzione Che devi fare rapidamente Perché la squadra È Cioè quando vinci Una partita Non spari i palloni Come ho detto Dopo la spezia Vedo la gente morta E aumenta Invece che diminuire Questi cadaveri Che corricchiano Per il campo Allora Io so del parere Che comunque Il livello tecnico Di questa domanda È scarso Quindi più di tanto Secondo me Non è che ci puoi fare Cioè quello è il fatto Perché ha costruito Una squadra Ma male Dall'inizio È cercato È come quando Fai l'asfalto Poi c'hai le buche E le reattoppi È la stessa cosa Usando Una Siamo tutti d'accordo Non è che La Conte per esempio Ha fatto il mio peggio Una squadra Ma io credo Che il Guadiri Ci sia lavorando Per trovare una soluzione Vorremmo vederne Però non mi pare Dando l'aria buona Però Però L'idea di fare Altrimenti a porte Chiudiamo Quello va bene Per le condizioni Dai va Break Diamo una letta Veloce Alle pagelle Dei tifosi Di rossoverdi.com Veloce Perché poi voglio parlare Di un altro tema Aresti Si salva Con 6 e 15 Il resto La difesa Zanon 4 e 69 Valiant 5 e 22 Germoni 4 e 32 Meccariello 5 e 0 Germoni 1 I migliori Germoni è stato Il migliore della difesa Attenzione Mustacchi ha fatto Un diri in porta Però per esempio Un'occasione del gol Era completamente fuori Vabbè Ma ha fatto un diri in porta Mustacchi Stiamo leggendo le partite Post derby perso Le pagelle post derby perso Immagino di non vedere Grossi voti Centro campo Le desma 4 e 78 Defendi 4 e 38 Palumbo 3 e 60 Di noia 3 e 45 Qui mi sento abbastanza d'accordo Escluso le desma A cui avevi dato un po' di L'esma Per il resto Darei meno a Palumbo Di di noia Addirittura Perché penso sia stato Per distacco il peggiori In campo Insieme a Pettinari L'inutilità Proprio della presenza In campo È stata clamorosa Diamo avanti Finiamo con l'attacco Acqua fresca 4 e 78 Mi pare ingeneroso In generoso Visto che ha lottato da solo Contro tutti là davanti Falletti 4 e 0 e 6 Ci siamo Pettinari 3 e 85 È troppo Palumbo 4 e 80 Poco Insomma Un minimo Ma non dico 6 Ma almeno 5 e mezzo Ripeto Pagelle secondo me Sono tutte più Risultato Dai Risultato Umorani Però parecchie Sono giuste Che vuol dire 3 e 66 No troppo Come ho detto L'altra sera Da qualche altra parte L'altra sera Come ho detto 3 Netto Bene E l'arbitro migliore in campo Con 7 e 0 L'arbitro migliore in campo Ottimo l'arbitro Ormai l'arbitro migliore in campo È bella che è affosciata Gli arbitro in campo Ma questo è alberato bene Se dia o no Ci serviva a giornata Non ha infierito Archiviamo le pagelle Finiamo questa trasmissione E ripeto Che l'ho detto prima Stiamo registrando Di lunedì Per cui non sappiamo Se oggi che andiamo in onda Possa essere cambiato Qualche cosa Già Però Cronaca O dovere di cronaca Ci corre l'obbligo Di ricordare Che la Ternana Ha presentato un ricorso Mamma mia Allora Io esprimo il mio parere personale Poi lascio a voi il commento Lo trovo una cosa Lo trovo avvocato pure Questo non ce lo leva nessuno Caro Longarini Non ci ne frega niente Se vinci il ricorso Ho d'accordo E qualora Lo dovessimo perdere Raddoppieremmo la figuraccia E di questo Non avremmo mai Modo di ringraziarti A sufficienza Detto questo Parere Lascio a te avvocato L'obbligo Di spiegare I motivi di questo ricorso E poi Deve dire qualcosa Prima Volevo dire Velocemente Beh Saraletano Dicevo Prima cosa Mi pare una cosa Una decisione Assolutamente poco elegante C'è da dire Che quando ti devi salvare Se ti fai punti Alla fine No Però Per quanto riguarda La fondatezza Del ricorso Poi Massimo Magari ne parlerà meglio Ci sono molti dubbi E la cosa più grave È quella che hai detto Tu che se questo ricorso Viene nel spito Fai l'ennesima figuraccia Ma questa Questa società Purtroppo Viene freghe Che No Lasciamo perdere altre cose Che Ha fatto il ricorso Anche al Torno di Vareggio Non ci hanno impidato Sì ma il ricorso Non è ufficialmente presentato Ce l'ha dire anche questo Però mi pare No 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 L'Aternano non ha scritto Non ha detto niente Non è quindi Ne è ufficiale È una notizia Esce da Sky Esce da Da Di Marzio Dagli operatori Sky Quindi ancora Però qualcuno Se lo sia inventato Assolutamente Però non possiamo dire Che il ricorso è ufficiale Questo non lo possiamo dire Come dovere di cronaca Se non è ufficiale Allora Se non è ufficiale Pronti a ritirare tutto Potrebbero essere anche pronti A ritirare tutto Da punto di vista Chi è che vuole brevemente Spiegare i motivi Della giustizia sportiva Esprimo il mio parere Essendomi andato a leggere Articolo 95 Naturalmente L'articolo 95 L'articolo 103 E via discorrendo Ma anche sulla base Di precedenti ricorsi Che sono stati impostati Nella stessa maniera E per le stesse problematiche È un ricorso Destinato inequivocabilmente Ad essere respinto Assolutamente Mancano i presuppo Fai l'avvocato No no però Siamo documentati Siamo lontani come opinione No mancano i presupposti Perché oltretutto La lettera parla abbastanza chiaro Il passaggio di Gnaoré Se di passaggio si vuole parlare Ed è tutto da dimostrare Il doppio passaggio famoso Che non dovrebbe avvenire In realtà è avvenuto Con contestualità Nella stessa giornata Non dovrebbe aver giocato E di conseguenza Oltre a non aver giocato E di conseguenza Non è stato utilizzato C'è questo problema Che dovrebbe risolvere Assolutamente capra e cavoli Per il Perugio Invito gli avvocati Che seguiranno questa vicenda Se la dovranno seguite Per conto della Ternana Leggersi bene i regolamenti I federali Perché mi sa tanto Che anche loro In questo caso Farebbero una figura pessima E ne va Buon nome della categoria Che indegnamente rappresento Se farà ricorso Se farà ricorso Se farà ricorso Mi sembra di opinione diversa No Alessandro è di opinione diversa No io perché Comunque un pochettino Ci siamo documentati Con la redazione Di calcio del nano Punto it Quindi non è che Dico di no Perché lo voglio dire Perché comunque Porto comunque a valoro Delle tesi Come fa un buon avvocato Dicele Comunque si parte Dal presupposto Dell'articolo 95 Che dice che Un calciatore professionista Può fare Spiega quella parolaccia Che hai detto No if Che cosa significa Nuova Adesso No nei dettagli Se vogliamo Vai vai Andiamo avanti Dai Dei dettagli Adesso Non Mi ricordo Vabbè dai Volevo fare una cosa Un zunto breve Praticamente ecco Questo articolo 95 Dice che un calciatore Professionista Può fare tre trasferimenti Nell'arco Della stagione E può giocare Con due squadre Partendo da questo Presupposto La Ternana Si appella Anzi Si appellerebbe A questo A questo ricorso Dicendo che Il giocatore Che è di Gnaurè Ne ha fatti Quattro di trasferimenti Quindi andiamo Sul primo articolo Il primo comma Diciamo di questo Di questo articolo 95 Quindi il restante Non ci interessa Mentre il Perugia Invece Ne dice che ne ha fatti Tre di trasferimenti Adesso andiamo a vedere Un attimo Nel dettaglio Perché il giocatore Effettivamente Nel dicembre 2016 E' stato acquistato Dal Napoli Dalla Carrarese E dato in prestito Al Carpi Un prestito Biennale Quindi scadenza 36 Che cosa è successo Il Carpi Non ha rispettato Questo prestito Perché L'ha tenuto Soltanto Fino al 30 Giugno 2016 Ma che cosa è successo Andando a vedere Dettagliatamente Sui trasferimenti Che ci sono Sul sito Delle due leghe Lega Serie A E Lega Serie B Dove vengono annotati I passaggi dei giocatori E quindi con la data Presumibilmente Noi pensiamo Che siano anche Le date dei contratti Dove vengono firmate E stipulati I trasferimenti Abbiamo notato Questa cosa Che praticamente Il giocatore E' stato tesserato Il primo Di luglio Del 2016 Con il Carpi Poi Il 27 Luglio E' passato Al Napoli Quindi primo Trasferimento Per fine prestito Questo E quindi Nella stagione 2016 2017 Poi il 28 Quindi sono passate 24 ore Quindi il 28 7 E' passato In prestito Al Crotone Quindi secondo Trasferimento Anzi scusate Terzo trasferimento Perché abbiamo Carpi Napoli Crotone E poi il 31 Di gennaio 2017 E' passato Al Perugia Quindi in teoria Ci sono Quattro trasferimenti Allora il motivo Del contendere E' Come giudicheranno Il ritorno A Napoli Prima di ripartire Se posso finire Due minuti Così spiego Brevemente Tutto quanto Il Perugia Sostiene Invece che Il giocatore E' stato Trasferito Dal Napoli Carpi Napoli Grotone Quindi Napoli Grotone In quella Quella giornata Lì In un solo giorno Il 27 E si appella All'articolo 103 Il 103 Che cosa dice Dice che Un calciatore Professionista Può attesserarsi Nella stessa Stagione Sportiva Sia a titolo Definitivo Che temporale O per un massimo Di tre società Ah no Scusate Questo è il 95 Quindi L'articolo 103 Dice Cioè consentita La cessione Temporanea Del contratto Con il calciatore Professionista Già oggetto Di altra cessione Temporanea Anche nello stesso Periodo Della campagna Trasferimenti Con l'espresso Consenso Della società Originaria Però Dati Che Vengono messi Sul sito Delle due Lega Lega Serie A Lega Serie B Sono contrastanti Perché Fanno passare 24 ore Dal Dal passaggio Del giocatore Dal Napoli Al Crotone Quindi Scusate Se il trasferimento Avviene Nella stessa giornata Non conta Come due Ma come un Questo è l'ha detto Però Da questo C'è la Giù Questo è quello Che abbiamo Vedere le date Dei controlli Leggendo Ovviamente Noi le date Dei documenti Non ce le abbiamo Cioè Non li sappiamo Noi possiamo Orientarci C'è un problema Il problema Che non è poi Un problema Visto che Ho il piacere Di essere ospitato Da una televisione Perugina Mi sembra di aver capito E di aver sentito Corretti Direttore sportivo Del Perugia A chiarire in maniera Proprio più che Esaustiva Questa vicenda Troncando sul nascere Ogni discussione Quello che dicono A Perugia Non lo so C'è contestualità Temporale Allora Un'altra postina Scusate Un'altra postina Se comunque Il giocatore Adesso è passato Dal Perugia Sicuramente La Lega Ha avallato L'operazione Quindi per avallare L'operazione In teoria La Lega Dovrebbe Smentire se stessa No 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 Nel senso Dovrebbe avallare La teoria Del Perugia Che dice Che il passaggio Del giocatore Si avvono Nello stesso Nello stesso giorno Quindi il cavillo Comunque è su questo È sul trasferimento Che è avvenuto A Luglio Del giocatore Tra Carpi Napoli Crotone Vero è Vero è Chiudo Vero è Che Longarini È abituato A vincere le cause Anche quelle più impossibili Però io non la metterei Così tanto negativa La situazione Secondo me Si crea Innanzitutto Si crea anche Un precedente Perché non è mai successo Nella storia Attuale Insomma Di trasferimenti Di una cosa del genere Di quattro trasferimenti Di un giocatore In una sola stagione Per queste cose È successo Nella stagione Il 2012 Il 2013 Con Del vecchio Che doveva passare Al Grosseto Ma in quel caso Lui già aveva giocato Con due squadre Quindi L'articolo 95 Noi Oltre Al primo comma Fa riferimento Al secondo Scusa Se posso Allora Forse Può esserci Un bizzio Di fondatezza E si potrebbe discutere Forse Abbiamo perso Però Eleganza vuole Che se Tu puoi fare ricorso Lo puoi fare Se hai nettamente ragione In questi casi Ma visto che c'è un dubbio Io non lo farei Forte dubbio Questo è il mio parere Però è una questione Di eleganza E di sportività E rischia di essere Controproducenti Assolutamente sì Ripeto Non c'è stata nessuna Nota ufficiale Sul sito della Ternana Questo è giusto Questo è giusto Perché potrebbe Anche Glaterana Ci ha pensato Un giornalista L'ha riportato E poi Da poi Ha ritirato tutto Questo è fatto Bene a precisare E comunque Per quanto riguarda La cronistoria Dei trasferimenti Di questo giocatore L'oratore È di Gnaurè Ci sarebbe Da discutere Ci sarebbe Un pochettino Da discutere Io Ripeto Che Stiamo registrando Di lunedì Quindi quando andiamo In onda Non possiamo Prevedere Se ci saranno Stati degli sviluppi Io ripetisco Il congetto Secondo me A partita L'abbiamo persa E questa Stiamo a fare L'ennesima Figuraccia Abbiamo finito Vi ringrazio Di essere Stati I nostri ospiti Grazie a te Grazie a te Mi fai Dire due cose Io ti ringrazio Vi ringrazio Di avermi Riesumato Dal mio sepolcro Indubbiamente Imbiancato Imbiancato Naturalmente Come sempre Imbiancato Voglio fare Gli auguri Se me lo permetti A Ligia E a Fabrizio Logicamente Per la nascita Della erede Che sostituirà Solo al momento opportuno Ligia Nella sua Chi è Fabrizio No Fabrizio Adesso Non ho voluto Ammettere in dubbio La paternità Vedi che stavate Il sepolcro Per la modetta Adesso Quando scendiamo Ci stanno Nella farmacia Ci stanno Le pasticchine Come si chiama Ma tu le prendi spesso Io le prendo Ma non so Quelle che prendi Dicevo auguri E figlie femmine Come suol dire In questo caso Io ricordo a tutti Che saremo disponibili Da martedì Pomeriggio Su tutti Il canale Youtube Di OndiV Più tutti i social La sera Andiamo in onda Alle 21.30 Su Rete Sole Al canale 13 Digitale Terrestre Andiamo a Bari Vediamo un po' Che fine facciamo Grazie A settimana prossima Grazie Grazie